Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con ConfCommercio Notizie. Sono molto attesi gli incentivi auto 2024 annunciati dal governo all'inizio dello scorso febbraio, incentivi che potrebbero essere disponibili prima dell'estate. Nel frattempo frena il mercato vicentino dell'auto, secondo i dati elaborati da Unrae, ConfCommercio, l'Unione Nazionale dei rappresentanti autoveicoli esteri. Il primo trimestre del 2024 si è chiuso infatti in provincia con il segno meno per le nuove immatricolazioni di vetture, in controtendenza rispetto agli ottimi risultati registrati nel 2023. Sentiamo nel servizio di Chiara Beato cosa ha detto il presidente dell'Associazione Provinciale Concessionario Ufficiale Autoveicoli di ConfCommercio Vicenza, Vittorino Bisson. Primo trimestre purtroppo in calo nei primi tre mesi a Vicenza. Settore auto in stallo è la prima battuta d'arresto dopo mesi di crescita. L'attesa dell'eco bonus frena le immatricolazioni. Chi aveva intenzione di fare l'acquisto delle quattro ruote sta tergiversando. 400 macchine circa immatricolate in meno, pari al 7.2% di diminuzione. Nel Vicentino sono state 5.529 contro le 5.958 dello stesso periodo dell'anno scorso. L'anno dunque parte in salita dopo gli ottimi risultati del 2023. Per noi addetti un po' al settore è abbastanza spiegabile. Dato che il governo ha annunciato qualche mese fa la rivisitazione completa della struttura degli incentivi statali, sono stati cambiati importi, benefici per fascia di emissioni inquinanti. Una cosa molto importante che è un adattamento all'ISE superiore o inferiore ai 30.000 euro all'anno. La domanda ha rallentato infatti per l'attesa dei nuovi eco-incentivi statali. Dovevano essere operativi già nelle scorse settimane e invece devono ancora entrare in vigore. Bisogna che il governo faccia presto a sbloccare la situazione per non compromettere l'andamento del settore. esortano gli esperti. L'aspettativa è forte dei consumatori sugli eco-incentivi 2024 perché si tratta di aiuti importanti. Pensate che oggi acquistando un'auto elettrica e rottamando una vettura Euro 1 o Euro 2 si possono ottenere fino a 13.500 euro di incentivi. Prosegue il progetto di ESAC Formazione e Coffcommercio Vicenza, una stanza tutta per sé, spazi fisici, culturali ed economici per lo sviluppo e la valorizzazione della leadership femminile. Progetti ed azioni di reti innovativi per la parità e l'equilibrio di genere. Un progetto che consente prevalentemente alle donne lavoratrici disoccupate e ai giovani studentese di beneficiare gratuitamente di formazione e consulenze individuali e attività esperienziali volte a sviluppare competenze ed abilità utili e fondamentali per emergere nella società ed affermarsi nel mercato del lavoro. Tra i vari interventi spicca quello realizzato in collaborazione con Teama Teatro dal titolo Alleniamoci alla leadership femminile con il teatro. Sentiamo il servizio. Teama innanzitutto da diversi anni, ma veramente diversi, agisce nel campo della formazione aziendale e quindi l'idea di mettersi a confronto col mondo del lavoro non è una novità. Nell'ambito poi della nostra azione di costruzione di comunità, di pensiero e di interesse nei confronti della nostra attività ci pareva anche molto bello inserirci in questo percorso, mettendo a disposizione di chi frequenterà le nostre ore, i nostri incontri, tutti gli strumenti del teatro che sono strumenti essenzialmente di relazione emotiva, di empatia, di ascolto, quindi qualcosa che va al di là della classificazione, qualcosa che è insito nell'essere umano e quindi che trasversalmente prende qualsiasi genere, chiamiamolo così, anche se mi piace superare questa classificazione quando parliamo di teatro e quando parliamo di arte. E' più bello parlare di esseri umani to cure, indipendentemente dall'essere donna, uomo o quant'altro. Allenarci alla leadership dal nostro punto di vista significa empatizzare con chi è davanti, saper ascoltare, saper rielaborare le informazioni per renderli efficaci. cose che nel teatro ci sono, nel teatro e negli strumenti del teatro ci sono, quando si parla di emozioni, quando si parla di ascolto, il teatro è la strada maestra, il teatro è l'arte che nel tempo ha dato modo all'uomo di esprimere qualsiasi tipo di emozione e di rendere questa emozione visibile, palpabile e trasmissibile. Per cui, insomma, mi pare che nel percorso di costruzione di un vero leader, il teatro possa essere uno degli strumenti più efficaci in questo senso. Abbiamo iniziato a lavorare con quelli che sono gli strumenti che il teatro ci dà. Il teatro è molto semplice, gli strumenti che il teatro dà sono l'uso dello spazio, l'uso del corpo, l'uso della propria voce. Tutto questo è inserito in un grande, chiamiamolo contenitore, che è la parte emozionale, quindi le emozioni. E quindi abbiamo iniziato a lavorare su noi stessi a partire dagli strumenti che il teatro ci pone, che va bene non solo per gli attori ma va bene per tutti. Noi, in relazione alla nostra voce, come viviamo la nostra voce, come la nostra voce comunica, quindi come portiamo le emozioni agli altri, come queste emozioni fluiscono anche attraverso il nostro corpo e quindi respirazione, voce, corpo, emozione, sono tutte collegate e sono gli strumenti fondamentali per creare una relazione con l'altro e quindi una comunicazione efficace. A Vicenza, in occasione della giornata ecologica di domenica 21 aprile, incontra 20 settembre, ci sarà la manifestazione Trastevere in arte. I negozi e le botteghe saranno aperte e usciranno in strada alternandosi all'esposizione di un gruppo di artisti che porteranno le loro opere, in particolare quadri, in molte le vedute ad acquarello ad esempio, sculture e ceramiche. La manifestazione Trastevere in arte è patrocinata dal Comune e realizzata in collaborazione con la sezione 1 del Centro Storico di Conf Commercio Vicenza e organizzata dall'Associazione Pandora che ha coinvolto gli esercenti della zona per una giornata davvero speciale. Sentiamo qualche anticipazione. Diversi anni che non c'è Trastevere in arte, noi commercianti della zona di Contra 20 settembre abbiamo voluto di nuovo riproporla, il Comune ha accettato con entusiasmo, ci saranno diversi negozi, perlomeno una decina, e molti artisti, pittori, ceramisti, soprattutto acquerellisti. Ogni negozio proporrà qualcosa di diverso, un intrattenimento, una scontistica o qualcosa di particolare. Ci sarà il catering, la zona di Contra 20 settembre verrà chiusa e quindi la gente potrà passeggiare per la strada e questo crea sicuramente un quartiere diverso, un quartiere che sarebbe bello riproporre in varie situazioni della città. Noi questo è un po' un'apripista, visto che Trastevere in arte è comunque un evento storico ed era già conosciuto, ma sarebbe bello riproporre questo format anche in altre zone della città. Ringraziamo il Comune di Vicenza e Conf Commercio che ci hanno sostenuto all'evento e tutti i commercianti che ancora credono che si può fare qualcosa per valorizzare la nostra bella città. Ed ora le altre proposte formative. ESAC Formazione propone il corso Video professionali con lo smartphone lunedì 15, 22, 29 aprile e 6 maggio dalle 20 alle 23. Guidati da professionisti nel settore, il corso è un'opportunità unica per acquisire competenze fondamentali nel campo della produzione di video di qualità utilizzando uno strumento comune a tutti, lo smartphone. Mercoledì 15 maggio dalle 9 alle 16, corso sui defibrillatori, l'abilitazione BLSD, un corso per abilitare all'uso del defibrillatore per affrontare efficacemente eventuali situazioni di emergenza in azienda assicurando l'attivazione di comportamenti adeguati. L'Università del Gusto propone il corso per professionisti le carni da cortile con lo chef Filippo Saporito lunedì 6 maggio dalle 9.30 alle 15.30. Lo chef illustrerà i partecipanti metodologiche e tecniche per la realizzazione di piatti contemporanei in cui tradizioni ed innovazione si legano in un binomio armonioso di sapori e qualità. Infine, corso dedicato al dessert al piatto, dolce non dolce, lunedì 13 maggio dalle 9.30 alle 15.30 con lo chef Diego Magro che accompagnerà i ristoratori nella preparazione e degustazione di dolci non dolci, ovvero dessert con basso apporto di zucchero e con l'utilizzo di vegetali e abbinamenti come polenta e latte. Ed ora l'agenda. Mercoledì alle 15.00, Assemblea della 50 e più Vicenza. Alle 17.30, Consiglio dell'Associazione Provinciale Macellai. Giovedì alle 14.00, Webinar I benefici e vantaggi competitivi della sostenibilità economica e sociale in particolare nei confronti dei collaboratori. Alle 20.30, Incontro formativo Le comunità energetiche rinnovabili Un'opportunità per i cittadini e le imprese. Venerdì alle 14.30, Webinar della FIMA Italia Titoli di provenienza nell'attività di mediatore. Alle 20.30, Incontro formativo più sicuri insieme, furti e rapine come tutelare la nostra sicurezza. E per quanto riguarda questo appuntamento con Commercio Notizie, è davvero tutto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domenica prossima. Arrivederci e buona settimana. Grazie a tutti.